ciao amici è arrivata la stagione fredda ma la natura ci regala sempre tanti doni ma di cosa stai parlando uno di questi è la melagrana la melagrana è buonissima da gustare ed è il frutto perfetto in questa stagione se ne parla tanto vi siete mai chiesti quali sono i suoi benefici moltissimi dei benefici della melagrana sono concentrati nel succo che con antociani e tannini è preventivo del cancro benefico per la pelle e un fantastico antiossidante e anti infiammatorio naturale uno studio scientifico ha dimostrato che la melagrana aiuta davvero a mantenersi giovani perché favorisce la rigenerazione di tutte le cellule e della pelle ma non solo la melagrana è anche ricca di calcio e alleata contro l'osteoporosi i suoi semi contengono estrogeni naturali e sono un prezioso aiuto durante la menopausa contro vampate di calore e sbalzi d'umore la melagrana protegge il cervello da malattie come l'alzheimer e previene ictus e attacchi di cuore la melagrana mantiene puliti i vasi sanguigni e abbassa i livelli di colesterolo grazie all'acido e laico ma non solo contiene polifenoli chiamati ellagittannini che riducono il rischio di cancro al seno il frutto del melograno è anche ricco di vitamina c con il 48 per cento del valore giornaliero di questa vitamina protegge la pelle in diversi modi dall'invecchiamento perché stimola la produzione di collagene responsabile di una pelle liscia e giovane contro i danni dei raggi uv per prevenire il cancro della pelle grazie agli antiossidanti come acido gallico e dell'agico ed è anche ottima come ingrediente per creare degli scrub fai da te ecco come fare si può preparare una purea di semi di melagrana con olio di cocco e zucchero di canna massaggiare la pelle e sciacquare bene per concludere in bellezza la melagrana è anche un antidoto per mantenere il buon umore sarà il suo colore rosso rubino sicuramente è anche la vitamina e vitamina c selenio e beta carotene che aiutano contro gli sbalzi d'umore io adoro la melagrana e ne ho parlato spesso in questi video per vedere tutti i miei video con consigli e ricette sugli alimenti sani iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per sostenere il mio progetto di divulgazione della salute naturale abbonatevi al canale con un click ora condividete il video per tutti gli amici trendy e sani che avranno più piacere a mangiare la melagrana mangia sano e vivi meglio